Dal 25 al 29 luglio 2017 all'interno della Fortezza Medicia di Volterra si apre il sipario sul progetto Iubris, ideato da Armando Punzo, regista della storica compagnia teatrale della fortezza. Iubris come il concetto della cultura greca che esprimeva la tracotanza che porta l'uomo a ribellarsi contro l'ordine costituito sia divino che umano incorrendo immancabilmente nella vendetta o punizione divina. Un progetto speciale della durata di due anni a cura di carte blanche che si concluderà nel 2018 anno in cui ricorre il trentennale della compagnia della fortezza. Credo che questo forse è un termine, una parola che dobbiamo incontrare, credo che la compagnia della fortezza possa essere tante volte accomunata a questa idea della Iubris, cioè la tracotanza, la superbia. Non la intendiamo in questo progetto invece un po' alla rovescia, forse è una ricerca di felicità, di amore, di sogno, di utopia. Cioè quindi anche tutti i miti greci dove questi personaggi devono pagare per avere osato qualcosa, noi stiamo provando a dimostrare che forse, a riflettere, che forse invece c'è veramente un bisogno di felicità, un bisogno di cercare oltre. Cuore della manifestazione sarà il nuovo atteso lavoro della Compagnia della Fortezza dal titolo Le parole lievi, cerco il volto che avevo prima che il mondo fosse creato, un preludio del vero e proprio nuovo lavoro della Compagnia, ispirato all'opera di Georges Louis Bourges. Il teatro dunque riemerge dal carcere di Volterra, ma non solo. Nei cinque giorni del festival sarà organizzato un ciclo di incontri in cui dialogheranno alcuni dei più raffinati pensatori del nostro tempo, filosofi, antropologi, giuristi, economisti, psicologi, sociologi e uomini di chiesa. Stiamo leggendo tutta l'opera di Borges, quindi siamo in questa prima fase, stiamo cercando di capire veramente qual è la cifra proprio stilistica, qual è la parte e quindi il pubblico vedrà sicuramente l'inizio e veramente qual è questa umanità che Borges ci consegna e che sicuramente è un po' sconosciuta, non è che tutti veramente forse hanno un'immagine di questa umanità, quindi cercheremo di dare un inizio a questo lavoro. Le giornate degli spettatori saranno arricchite quest'anno da un momento di convivialità. Ogni sera infatti al termine dello spettacolo e degli incontri, a partire dalle 19.30 nella Torre del Maschio, durante le scene organizzate in collaborazione con il progetto Cene Galeotte, si potrà visitare visioni dall'impossibile, installazioni, video sonore immersive e mostre fotografiche per un viaggio nel mondo della compagnia e nella storia della fortezza medicia che la ospita.